benvenuti a fatti e commenti la rassegna stampa serale di tv rs anche oggi giovedì 11 luglio ci occupiamo delle notizie dai siti e anche di approfondimenti assieme ai nostri ospiti il primo è mirco ruggeri sindaco di carpegna buonasera benvenuto felice di essere qua cominciamo con il nostro portale utvrs.it che propone tante notizie di cronaca purtroppo non positive collisione tra mezzi pesanti arrivano vigili del fuoco e autogru siamo nel territorio di ancona e questo è un incidente in cui si parla in apertura del nostro sito internet camion si ribalta fuori strada a iesi per la precisione in via minonna estratto l'autista grazie ai vigili del fuoco e addirittura è dovuto intervenire l'autogru di spalla sempre in zona ancona max incidente sul lungomare persona bloccata nel veicolo e un ciclista ferito fuori strada con la moto coppia di 18 anni in ospedale poi queste sono notizie di ieri scalzo in stato confusionale provoca incidente con una macchina sotto sequestro e poi dal corriere adriatico punto it la denuncia di una 17enne violentata dopo la movida da un uomo molto grande e siamo a civita nova di spalla il meteo nelle marche si bolle temperature percepite nel weekend fino a 44 gradi si parla anche di bollino rosso per tre giorni consecutivi di calura estrema blitz della finanza all'odonto tecnico e abusivo sequestrato lo studio dentistico da 130 mila euro e ancora russell crow oggi la sua giornata in piazza ad ascoli selfie e foto coi fan prima l'oliva lascolana e poi il concerto e ancora d'ancone lo writer innamorato non si ferma ricamo sulla spiaggia del passetto e delitto rosina parliamo del 2022 colpo di scena ergastolo alla figlia il nipote condannato a 27 anni c'è stata premeditazione da ansamarche.it andiamo sul diritto di famiglia ad ancona due protocolli innovativi sottoscritti alla corte di appello dagli attori della giustizia costituiscono un significativo passo avanti per la semplificazione della giustizia nel diritto di famiglia la collaborazione di tutti gli attori della filiera della giustizia rappresenta un esempio di collaborazione che da considerarsi un unicum in tema di giustizia in italia che premia l'impegno e la capacità divisione dei sottoscrittori dicono gli avvocati di ancona protocolli appunto sulla disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei processi di famiglia e ancora turismo trainato anche da agricoltura tradizione e cibo eccellenze enogastronomiche delle marche ricercate nella scelta olivella scolana passatelli vinci sgrassi maccheroncini di campo filone o il vecchio ci sono poi tante specialità anche a carpegne ne parleremo tra poco torniamo dal sindaco mirco ruggeri al suo secondo mandato è stato appena riconfermato come primo cittadino com'è andata la campagna elettorale ed è soddisfatto del bis che appena iniziato molto molto è stata una campagna elettorale tosta devo dire perché comunque c'era l'altro candidato sicuramente aveva una lista valida con un candidato sicuramente che riscuoteva riscuoteva favori riscuoteva diciamo anche la popolazione insomma lo vedeva molto bene però hanno sicuramente apprezzato quello che è stato il lavoro di questi cinque anni e perché sono stati sono state fatte sono state realizzate tante cose quindi la mia lista che si rinnovava in parte ha avuto insomma il favore dei voti delle elezioni siamo andati abbastanza bene quindi sicuramente appagante come come risultato finale lei è titolare di un hotel è entrato in politica nel 2009 diventando consigliere con delega al turismo negli anni è stato anche presidente dell'associazione promozione carpegne del carpegne a calcio durante il primo lustro ritiene di aver centrato quasi tutti gli obiettivi tutti direi che direi di no nel senso che le cose sono veramente tante da così da centrare da portare avanti da realizzare quindi però è stato fatto sicuramente un enorme lavoro sia sul discorso delle infrastrutture che anche sui servizi e insomma la popolazione questo l'ha riconosciuto lo ha percepito e quindi sì insomma ci ha garantito un ulteriore mandato dove poi andremo a così a completare quelle cose che sono state iniziate o progettate ma che saranno poi da definire in questi ulteriori cinque anni in questi ulteriori cinque anni sì contiamo molto in questi in quest'altro mandato perché i primi cinque per un sindaco specialmente all'inizio sono sempre di comunque di apprendistato e poi consideriamo sempre che i primi due anni sono stati così determinati e condizionati da quello che è stato il covid che ci ha permesso di lavorare poco però i tre anni seguenti insomma i risultati portati a termine sono notevoli e ci danno la spinta necessaria l'entusiasmo necessario per centrarne altri. Da ultimo ha realizzato l'avvio della costruzione del pollo per l'infanzia di un elis superficie per il volo notturno avete fatto anche una collaborazione di integrazione sociale con i profughi, riqualificato giardini pubblici proposte iniziative che vi hanno fatto passare da 22.000 presenze turistiche del 2019 a 38.000 del 2023 quindi turismo molto importante per voi. Quello forse è il risultato che così ci premia di più e ci dà anche più soddisfazione. Consideriamo che Carpegna è sempre stata una meta turistica di rilievo e negli anni passati era considerata come stazione climatica un punto di riferimento nel turismo regionale e dalla costa insomma ci si muoveva e si veniva a Carpegna per il clima per sia appunto per il bel clima per le temperature non calde d'estate che ti permettono insomma di vivere l'estate in maniera più tranquilla rispetto a quello che si fa sulla costa. Poi nel tempo il modo di fare turismo è cambiato completamente. Noi l'abbiamo pagato negli anni avendo un calo notevole delle presenze e che si è registrato questo calo fino diciamo agli anni 2014, 2015, 2016. Non negli ultimi anni. Non negli ultimi anni. Abbiamo poi cominciato una risalita e negli ultimi cinque anni insomma una notevole risalita cambiando anche quello che era un po' il target e anche gli obiettivi perché è diventato dominante da noi il turismo sportivo e il turismo enogastronomico. Poi Carpegna è al centro del Monte Feltro e molto spesso funziona un po' da base per tutti quei turisti anche culturali che si vogliono muovere all'interno del Monte Feltro per visitare i borghi storici che ci sono attorno a noi per visitare Carpegna ma anche per andare a Urbino, per andare a San Marino quindi stiamo facendo un po' da punto di riferimento. Per voi il turismo è legato soprattutto al cipo, al passo della cantoniera? Non so se il tempo ballerino vi ha aiutato finora. Il tempo ballerino sicuramente no, abbiamo la fortuna e la sfortuna da un certo punto di vista di avere un turismo organizzato quindi diciamo che alla fine il tempo determina i numeri ma fino a un certo punto quando il turista si è organizzato specialmente in gruppo comunque si muove. Può determinarlo invece in questa fase della stagione dove ci sono le singole famiglie, i singoli turisti che vengono e chiaramente avere un clima, un buon clima sicuramente aiuta. Proverete a continuare a destagionalizzare? Proveremo a continuare e ci stiamo anche riuscendo andando a così ad intercettare dei target che fino a dieci anni fa non c'erano. Tipo ad esempio il turismo scolastico che in nei mesi di marzo, aprile, maggio ma anche ottobre, novembre ci porta dei buoni numeri e riesce in qualche maniera a riempire le strutture ricettive e soprattutto gli hotel. Invece d'estate vanno per la maggiore i campeggi, ne abbiamo tre, anzi ne abbiamo due, altrimenti il sindaco di Frontino si arrabbia però ce ne abbiamo uno al confine tra Frontino e Carpegna che gravita molto su Carpegna, ecco questi tre ci danno dei bei numeri e garantiscono anche lavoro agli esercenti del paese di Carpegna. Tra gli obiettivi ci sono quello di abbassare le tasse, ottenere una compensazione per la presenza del poligono militare e sviluppare la nuova zona artigianale, potenziare l'area protetta del parco Sasso Simone e Simoncello. Sì, come capite sono tutte cose notevoli, effettivamente però sono gli obiettivi che abbiamo e l'obiettivo di avere un indennizzo dalla presenza dei militari a Carpegna penso che sia basilare, tra l'altro era chi ha creato il poligono a Carpegna lo sapeva che ci avrebbe dato del disagio e all'epoca aveva previsto un indennizzo per l'amministrazione comunale di 25 milioni di lire, si tratta del 1960, quella cifra è rimasta invariata perché è legata ad un parametro che non ha subito variazioni in aumento nel corso dei decenni e chiaramente l'obiettivo primario è riuscire ad avere riconosciuto quell'indennizzo che sia attuale, non i 25 milioni di lire di quella volta ma rapportati con una crescita istata sarebbero 220-230 mila euro, quindi per noi sarebbero veramente tanto da poter investire appunto come dicevi nell'abbassare le tasse e comunque nel fornire nuovi servizi ai cittadini e anche dei lavori di miglioramento del paese. Poi sicuramente il fatto di allargare l'area protetta del parco del Stato Simone Simoncello, anche quello è uno degli obiettivi principali, confinante con il parco naturale c'è un'area protetta toscana e poterla inserire con globale all'interno del parco naturale sarebbe sicuramente un arricchimento di quella che è l'offerta ma anche il fatto di, importante il fatto di mettere insieme tre regioni. Lei ha parlato delle energie rinnovabili dicendo che sono indispensabili ma bisogna capire come sfruttarle al meglio, quindi sono un po' un'invadenza negativa. Beh noi abbiamo avuto proprio durante la campagna elettorale un incontro che parlava degli nuovi impianti eolici che sono in programma, non in programma, che sono stati diciamo proposti al Ministero nel confine con la Toscana. Sono in territorio toscano ma poi incidono molto anche su quello che è il rapporto con il territorio nella regione Marche e anche nella regione Emilia-Romagna. Stiamo cercando di combatterli in tutti i modi perché pensiamo che siano, è un modo di fare energia rinnovabile che però va a impattare troppo sul territorio, quindi questo sicuramente. Poi stiamo cercando di avviare una comunità energetica rinnovabile ma che si basa soprattutto sul fotovoltaico senza andare a rubare ulteriore territorio ma impiantando i nuovi impianti fotovoltaici sopra i tetti dei capannoni o comunque delle case, quindi coinvolgendo quelli che sono i nostri imprenditori della zona artigianale e qualche cittadino che vorrà collaborare e quindi metterli sui propri tetti. Questa mattina è stato a Fano per parlare di finanziamenti legati alla viabilità nei borghi e nel pomeriggio a Dancona. Nel pomeriggio a Dancona. Allora sì, c'è stato un incontro promosso dall'assessorato alla viabilità alle infrastrutture dell'assessore Baldelli dove dava un'informativa agli enti, ai comuni su quelle che sono le possibilità che sta mettendo in campo la regione per riqualificare la viabilità, per renderla più sicura, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sì, sono delle buone opportunità per noi comuni. Sono sempre bandi che prevedono una compartecipazione. Io questa linea che ha sposato l'assessore Baldelli la condivido perché l'intero importo a fondo perduto molto spesso cosa succede? Che diciamo si chiede a prescindere dalla reale necessità. Invece in questo modo dovendo l'ente, il comune che partecipa doversi mettere del proprio, lo fa se in quella cosa ci crede, se è veramente utile al paese. Quindi su questa cosa mi trovo molto d'accordo. Ci sono delle buone opportunità. C'è anche un altro bando interessante che è il bando sulle mura storiche. Le nostre mura storiche sono private perché sono quelle che riguardano il giardino di Palazzo dei Principi. Vediamo se riusciamo in qualche modo a collaborare con la famiglia e a provare a candidare un progetto anche noi. Andiamo ancora sui siti, un altro paio di notizie da cronacaemaceratesi.it. Addio ad Alfredo Pirri, portiere della Rata, 69-70. Aveva 73 anni e è morto nella sua Cremona. Fece parte di quella squadra biancorossa allenata da mister Tony Gianmarinaro che centrò il ritorno in Serie C dopo un campionato dominato in quarta serie. Il ricordo di Pino Ciappelloni era un compagno di squadra che faceva spogliatoio. Un bravissimo ragazzo. Vedete la foto Renzo Zimmerle e Alfredo Pirri a Macerata qualche anno fa. Addio quindi a un calciatore della maceratese. E poi notizie da viverepesoro.it. Tamponamento a catena sulla Montelabatese coinvolti quattro mezzi, traffico in tilt. Ne abbiamo parlato nei nostri notiziari e c'è stato anche un incendio sempre sulla Montelabatese questo ieri sera. Sabato c'è Cali City. L'estate in un sorso. Le migliori proposte di venti tra cantine e produttori. A Vallefoglie si accende la Notte Bianca. Sabato 13 luglio è White Night 2024. E ancora musica, animazione, buon cibo e divertimento. A Belvedere Fogliense arriva la festa dell'estate. Direi di tornare allora dal sindaco di Carpegna per parlare degli eventi. Eventi estivi partendo dalla festa del prosciutto che è un po' il clou di tutta l'estate. Dal 18 al 21 luglio un DOP d'eccellenza portando in tavola appunto il gusto di questo salume nelle sue due varianti. Quella più dolce è San Leo, quella più intensa e speziata la ghianda. E c'è anche un panino gigante per festeggiare. Allora sì, è la 19esima edizione della festa del prosciutto DOP di Carpegna. Per noi è chiaramente il prodotto principe della nostra gastronomia. Siamo molto legati a questo prodotto anche perché diciamo che esprime la qualità del nostro territorio. Ci sono dei motivi perché si produce a Carpegna e questi motivi sono legati al clima e alla salubrità della nostra aria pura. A Carpegna abbiamo due boschi molto importanti che sono la cerreta di Sasso Simone e la pineta di Monte Carpegna. La presenza di tanti alberi, di tanta vegetazione appunto fa sì che abbiamo questo clima molto asciutto, molto adatto alla stagionatura del prosciutto. Da quando il prosciutto di Carpegna è diventato di proprietà dei fratelli Beretta, abbiamo anche una stabilità nella gestione del prosciutto edificio e così insomma abbiamo veramente tanta soddisfazione da un prodotto di eccellenza che trova il suo momento principale in questa bellissima festa. Inizia il 18 con Tesori e Palazzo che è una cena appunto a base di prosciutto di Carpegna, una cena gourmet che si fa di fronte al Palazzo dei Principi in un'atmosfera sicuramente speciale in particolare, una bellissima cornice. E poi prosegue con tutti gli eventi del resto del weekend tra cui c'è il paninone che viene fatto la domenica pomeriggio e dà modo ai turisti che sono a Carpegna di rubarne un pezzetto di questo panino lungo 70 metri. L'abbiamo visto prima in una foto. Sicuramente è un momento anche goliardico quello del paninone. E poi ci sono tutti gli abbinamenti con i vini delle Marche e con le altre DOP delle Marche, quindi la cacciotta d'urbino, l'olio di cartoceto e tutti gli altri prodotti di eccellenza. Io invito sicuramente a partecipare perché è un bel momento e poi ci sono eventi canori, ci sono laboratori per bambini, l'area B, insomma. Tante le cose da vedere, da visitare. C'è una bellissima passeggiata trekking curata da Carpegna Experience e poi eventi mountain bike, come vi dicevo laboratori per bambini, tanti momenti belli che si susseguiranno. Carpegna Prosciutto è anche il nome della squadra di basket di Pesaro, la VL per il sesto anno consecutivo è stata rinnovata questa importante sponsorizzazione, tra l'altro la squadra sarà in ritiro proprio dalle vostre parti. Sarà in ritiro a Carpegna come succede da 5 anni, alla fine di agosto. Sì, noi abbiamo dei bellissimi impianti sportivi, tra cui anche una splendida palestra dotata di parquet, che è sicuramente il posto adatto dove la squadra si può allenare e quindi è per questo che vengono in ritiro da noi, oltre al fatto che è chiaramente lo sponsor maggiore, è la Carpegna Prosciuti. Il fatto che il nome del nostro prodotto gastronomico di punta si leghi a quella che è la squadra di basket di Pesaro è per noi un ulteriore orgoglio e in questi anni chiaramente aiuta a veicolare il nome di Carpegna per l'Italia, quindi nome nei giornali, servizi televisivi sportivi, viene tutto bene perché giri il nome di Carpegna perché Carpegna entri un po' nelle conoscenze degli sportivi. Chiaramente ci sono poi a Carpegna ulteriori ritiri sportivi, ad esempio alla fine di luglio e prima settimana di agosto ci sarà il Rimini Calcio, il ritiro, quindi la Serie C, il Rimini milita in Serie C come la Vispesaro tra l'altro dicembre e poi c'era stato un abbocchamento anche con la Vispesaro ma in le Rimini li ha anticipati, quindi penso che la Vispesaro sia andata poi a un'altra parte, io ritiro, però ecco ci danno soddisfazione i nostri impianti sportivi, anche lo stadio comunale di Carpegna è molto bello, molto adatto anche per il clima ai ritiri di queste squadre. Nella gastronomia un altro prodotto DOP è il crostolo di Carpegna che è stato protagonista con voi di 50x50 capitali al quadrato dal 12 al 16 giugno, è stata la vostra settimana. Siamo stati subito dopo le elezioni tra l'altro, quindi è stato molto impegnativo, siamo stati con Pesaro capitale della cultura e il crostolo di Carpegna è stato tra i prodotti che l'ha fatta da padrone durante i vari assaggi e gli apericena che sono stati organizzati dai locali di Carpegna. È stata una settimana molto bella e con degli eventi importanti si è chiusa con la presentazione del libro sul Palazzo dei Principi di Carpegna del professore Simone Paci, un momento veramente bello e c'era una pubblicazione che mancava perché ci sono, c'era Contea di Carpegna o altre pubblicazioni che parlano dei Carpegna e della Vallata ma che parlasse nello specifico proprio di Palazzo dei Principi mancava e abbiamo anche così chiuso questa lacuna con questa opera del professor Simone Paci. Ah sì, tanti laboratori didattici, attività ludiche, visita al prosciutificio, boccia e artigiana, antica stamperia. Ci saranno anche durante la festa del prosciutto e sono diciamo momenti unici perché altrimenti il prosciutificio è chiuso, invece in quell'occasione si ha modo di vedere come avviene la lavorazione e la stagionatura, quindi anche quello è sicuramente un appuntamento importante e una curiosità che ci si può togliere, come viene lavorato. E poi c'è stato un momento molto bello dove abbiamo ripercorso la vita di Zandonai, di Riccardo Zandonai, questo musicista che negli anni 20 è stato uno dei primi turisti che veniva a Carpegna. Lui era del Trentino ma abitava a Pesaro, era il direttore dell'Istituto Rossini e passava le sue vacanze a Carpegna per non allontanarsi troppo da Pesaro ma per rivivere l'atmosfera un po' dei boschi, della montagna dove viveva in Trentino. Siamo in conclusione, un auspicio per i prossimi 5 anni? Un auspicio è che Carpegna cresca, che si riesca a realizzare altre attrazioni come abbiamo fatto in questi anni per i turisti, che cresca la qualità di vita dei cittadini di Carpegna e che riusciamo a valorizzare tutto quello che abbiamo dal Carpegna Park a Passo Cantoniera al Cippo, la località del Cippo che è amatissima dai ciclisti per il legame con il Pirata, con Marco Pantani e ecco questi sono un po' quelli che sono gli obiettivi. Vediamo quali possono essere le azioni principali da mettere in campo per riuscirci. Bene, termina qui la prima parte di fatti e commenti. Io ringrazio tantissimo per il suo contributo, il sindaco di Carpegna Mirko Ruggeri. Grazie a voi. A questo punto l'appuntamento è a tra pochissimo, noi ci ritroviamo con Siti e nuovo ospite. Non andate via.